La prima cosa che ho fatto importante è stato il concerto del Papa Bob Dylan nel 1997. Si diventa così, si hai grossa passione e grossa pazienza. E poi c'è da studiare, ci sono un sacco di corsi, di giornalismo, scienza di comunicazione e l'università, quindi insomma le vie sono diverse, però tutto quello che poi impari in teoria devi metterlo in pratica e questo è un gap che devi superare. Un lavoro che mi piace molto, lo faccio con grande passione, perché se no non sosterresti questi ritmi. È faticoso e stressante, ma tutto quello che accade nelle conferenze stampe quando leggi le cose sui giornali che ti riguardano per quanto riguarda la comunicazione sono sicuramente belle soddisfazioni che ripagano anche dello stesso. Sì, una grossa emozione facendo questo lavoro è questa intervista, che non sono abituato ad essere intervistato, ma a far fare intervista agli altri.